ciao da luci oggi realizzeremo insieme il cardigan recital il caldi cardigan recital che prende il nome proprio da questo bellissimo filato della yarn art per l'appunto recital per l'appunto sempre merceria italia artisan mi raccomando in descrizione vi lascio il link sia al filato sono gli ultimi gomitoli quindi io spero ci sia ancora quando uscirà il video e sia al alla merceria nel caso nel frattempo si esaurirà questo filato come sempre io e francesca saremo prontissime a darvi un'alternativa adesso quindi state tranquille che il filato per realizzare questo cardigan sicuramente lo troveremo quali sono le caratteristiche di questo filato allora questo bellissimo filato dalla metratura veramente ampia per essere un filato di questa di questo spessore perché voi sapete che i filati con uno spessore superiore ai all'utilizzo con uncineti del 45 mm di solito hanno metrature abbastanza ridotte invece questo è un fila un filatore partiamo comunque prima con la composizione 9 per cento alpaca 10 per cento lana 9 per cento biscosa 72 acrilico veramente un filato bellissimo 150 grammi per gomitolo sono 330 metri vedete la metratura è veramente molto ampia io penso che per il mio cardigan dovrei usarne sui quattro gomitoli tenete presente che non l'ho ancora finito lo finirò insieme a voi e quindi la quantità giusta la troverete comunque scritta qui vi metterò sicuramente una scritta con il giusto metraggio e peso del filato direi che possiamo partire con la spiegazione non prima però di dirvi questa cosa scusate mi stavo dimenticando io l'ho lavorato con un uncinetto nel 4 mm perché perché vorrei una lavorazione piuttosto compatta in quanto questo cardigan l'ho studiato sì come cardigan da portare all'interno di ambienti chiusi nel periodo invernale quindi quando fa freddo un bel cardigan molto pesante è sempre piacevole ma io l'ho studiato principalmente per la stagione non dico proprio di mezzo ma all'inizio alla fine dell'inverno ecco all'inizio della primavera quando possiamo togliere la giacca ma abbiamo bisogno comunque di un bel cardigan sostenuto quindi che ci tenga caldo da sostituire alla giacca quindi ho optato per un uncinetto del 4 nonostante col 5 con la quattro e mezzo cinque cinque e mezzo si possa lavorare tranquillamente questo filato ma non volevo una lavorazione troppo morbida e ariosa ma più compatta e pesante quindi potreste anche optare per un uncinetto più grande del mio quindi ci servirà giusto uncinetto numero 4 il filato vi dirò poi la quantità un ago tira fettuccia per nascondere i fili e naturalmente la vostra mano che quella serve sempre ora sigla e poi spiegazione della nostra maglia prima di partire con l'esecuzione eccoci qua allora vi do tutte le info prima di partire allora questa partenza per come l'ho fatta io va bene per tutte le taglie vi dico anche che però se volete lo volete più accollato più scollato potete tranquillamente cambiare le catenelle di avvio e vi spiego come allora per questo progetto le cose fondamentali da tenere in considerazione sono i disegni sul dietro sul davanti e sulle spalle questi disegni sono composti da 17 catenelle sul retro 7 catenelle sulle spalle e 7 catenelle sul davanti del lavoro anzi no 7 sono 10 in realtà perché sono 7 più 3 noi lasceremo un margine di 3 maglie prima della lavorazione del disegno quindi sono 10 a destra e 10 a sinistra quindi se volete cambiare filato e iniziare con catenelle diverse voi potrete intervenire su queste cinque quindi a queste cinque le potete aggiungere le cinque laterali al disegno ne potete aggiungere quante ne volete io sono partita con 27 catenelle voi potreste aggiungere due da una parte e due dall'altra e arrivare a 31 per esempio davanti potrete toglierne fino a 10 quindi potrete togliere se volete togliere tutte le catenelle catenelle in più potreste anche rimanere con 17 dietro 10 e 10 davanti e 7 e 7 sulle maniche quelle che non dovete toccare sono quelle del disegno quindi 7 17 7 10 e 10 tutte le altre potete aggiungerla in quantità che desiderate a seconda della vostra mano e del vostro uncinetto di conseguenza vi verrà più ampio o più piccolo lo scollo teniamo presente che è un cardigan e secondo me se tenete un uncinetto 4 potrete partire con le mie stesse catenelle che vi dico già sono 91 sono 91 catenelle per 27 cm di circonferenza quindi questo è il nostro scollo lo scollo non determina la taglia perché essendo un lavoro top down la taglia è determinata dai giri di lavorazione quindi mi raccomando non pensiate che se io parto con 27 centimetri poi non mi ci sta perché io sono una taglia 50 no a meno e non dovete neanche tenere conto che ci passi la testa perché essendo aperto lo infilate tranquillamente quindi partiamo con 27 cm se poi non mi sono sufficienti tranquille non è un problema andrete ad aggiungere su queste catenelle laterali al disegno mi raccomando in maniera sinti e scusate in maniera simmetrica quindi se ne aggiungete due a destra del disegno ne aggiungerete due anche alla sinistra come ovvio che sia mentre davanti ovviamente non dove non dovrete aggiungere a destra e a sinistra del disegno ma sul lato destro e sul lato sinistro dell'apertura del nostro cardigan io direi che possiamo partire mi sembra di avervi dato tutte le misure no non ve le ho date tutte perché in realtà noi avremo sul lato lungo 22 cm sul lato corto 9 cm come l'ho realizzato io la circonferenza totale è di 27 adesso comunque per sicurezza poi a fine lavoro io lo rimisurerò e vi lascerò sempre qui in alto quando trovate le scritte sul video sappiate che sono le correzioni alle stupidaggini che dico mentre ve lo spiego quindi sappiate che se io dico una misura ma poi la trovate scritta quella scritta è quella corretta passiamo alla realizzazione del nostro cardigan una volta avviate le mie 91 catenelle parto in questo modo allora faccio una catenella aggiuntiva entro nella seconda catenella dall'uncinetto e faccio una maglia bassa e una catenella sarà la nostra prima maglia alta io preferisco sempre partire così per non dover fare diecimila calcoli e confondermi ed entrare nella catenella sbagliata quindi fatta la prima vado a farne altre 14 per un totale di 15 arrivata a un totale di 15 maglie alte faccio 2 catenelle e senza saltare nessunissima catenella di base vado a fare la nostra prima spalla la nostra prima spalla è di 17 catenelle quindi sono il disegno da 7 più 5 a destra e 5 a sinistra vado a fare le mie 17 maglie alte fatte anche le 17 per la spalla 2 catenelle entro nella successiva senza saltare nulla altrimenti non abbiamo l'aumento faccio la prima di 27 maglie alte quindi procedo in ogni catenella di base a fare le mie maglie alte per un totale di 27 fatte anche queste 27 maglie alte 2 catenelle di separazione di nuovo senza saltare nessunissima catenella andiamo nella successiva ovviamente siamo sulla spalla dobbiamo farne tante quante fatte sull'altra spalla erano 17 ne facciamo 17 se voi avete aumentato segnate di quante ne avete aumentate e fate di conseguenza quindi le stesse che avrete fatto su una spalla vanno fatte sull'altra proseguo fino al prossimo angolo fate anche queste 17 andiamo a fare l'ultimo angolo perlomeno andiamo ad impostare l'ultimo angolo con due catenelle senza saltare nessuna catenella di base vado a fare le ultime 15 che ci porteranno alla chiusura del nostro primo giro di lavorazione ci ritroveremo con questo all'inizio della nostra lavorazione come vedete è uno scollo lo vedete anche dalle mie mani senza necessariamente prendere il centimetro che va bene per tutte le taglie ovviamente io l'ho tenuto piuttosto non troppo accollato ma neanche troppo scollato se voi volete una misura differente quindi una cosa più accollata sappiate che potete intervenire solo sulle cinque catenelle che abbiamo messo ai lati del disegno sia dietro che lateralmente e anche davanti perché ce ne servono 10 e ne abbiamo 15 quindi ottenuto 5 catenelle di gioco per ogni lato di lavorazione voi tenete presente che io ho fatto la stessa lavorazione per la maglia della mia bimba ve la farò vedere poi alla fine del video e ho semplicemente tolto quelle cinque catenelle quindi se volete farlo da bimba semplicemente tenete solo i disegni 10 10 7 7 17 quindi sappiate che se volete farlo da bimba quelle sono le misure mentre noi abbiamo aggiunto 10 per lato 10 catenelle in più per ogni lato proseguiamo con il secondo giro partiamo con due catenelle e voltiamo il nostro lavoro in questo modo ci tiriamo un po di filo ora non conteggiamo le due catenelle come prima maglia ma andiamo a lavorarla la primissima quindi alla base delle due catenelle vado a fare la mia prima maglia alta ricordate che chiuderò e aprirò sempre non tenendo conto di queste due catenelle io lavorerò e conteggerò solo l'effettiva maglia alta mi raccomando altrimenti poi vi ritrovate con delle maglie in più in totale devo farne tre quindi la prima l'ho già fatta vado a fare la seconda vado a fare la terza carico il filo sull'uncinetto e salto 3 maglie sottostanti 1 2 e 3 sulla quarta entro pesco il filo e alzo getto il filo rientro nella stessa maglia sottostante pesco il filo alzo carico il filo esco ma esco da tutte tenendo il primo cappietto sull'uncinetto chiudo come se fosse una maglia alta e vado a fare tre catenelle una due e tre rigetto il filo rientro alla base di questa nocciolina appena fatta pesco il filo esco tiro su bene getto il filo rientro nello stesso foro pesco il filo esco alzo bene getto il filo vedete questa maglia non dobbiamo lavorarla quindi usciamo da tutto tenendo questa rimaniamo con due chiudo come se fosse una normalissima maglia alta 3 catenelle e andiamo a fare questo per la terza volta quindi getto il filo entro nel foro alzo getto il filo pesco entro esco da tutto tenendo sempre questa catenella ne rimangono due chiudo e ho fatto tre noccioline che compongono un ventaglietto attenzione con questo filato che è molto grosso io ho fatto semplicemente due gettate con il filo più sottile quindi nella maglia per la mia bambina volevo che fosse più cicciottella la nocciolina e quindi di gettate ne ho fatte tre per ogni nocciolina è a vostra scelta non cambia assolutamente i fini del lavoro ma solo esteticamente se la volete più paffutella potete fare tre gettate o anche più a vostra discrezione io con l'altro filo che era più sottile ne ho fatte tre come da schema questo è un filo già più sostenuto e più grosso mi sembrava eccessivo farne tre e quindi ne ho fatte solo due di gettate ripeto a vostra discrezione filo sull'uncinetto salto 3 maglie 1 2 e 3 sulla quarta faccio una maglia alta maglia alta su quella successiva maglia alta su quella dopo e maglie alte a seguire quindi fino arrivare all'angolo in totale ne abbiamo due quattro cinque che sono le cinque che voi potete togliere volendo ok siamo arrivati all'angolo vado nell'angolo con una maglia alta due catenelle ed una maglia alta in questo modo ora siamo sulla spalla filo sull'uncinetto vado a lavorare cinque maglie alte lavorate le cinque maglie alte filo sull'uncinetto salto 3 maglie sottostanti sulla quarta vado a fare il mio ventaglietto di noccioline una gettata due gettate chiudo tenendo l'ultima catenella chiudo tutti insieme tre catenelle di separazione di nuovo filo sull'uncinetto entro alzo bene rientro alzo bene esco da tutti vedete tenendo sempre questa sull'uncinetto chiudo come una semplice maglia alta 3 catenelle di separazione ripeto per la terza volta filo sull'uncinetto alzo bene alzo bene chiudo tenendo sempre quella precedente chiudo tutti insieme filo sull'uncinetto conto una due tre maglie sottostanti sulla quarta sulla quinta sulla sesta sulla settima e sull'ottava vado a fare le mie maglie alte vedete stiamo abbiamo fatto al centro di quella che è la nostra spalla il nostro fiore ora nuovamente dentro nell'angolo una maglia alta due catenelle una maglia alta vado a fare cinque maglie alte fatte le nostre cinque maglie alte sul retro sarà leggermente diverso è sempre la stessa lavorazione ma la ripetiamo due volte intervallandola da maglie alte quindi filo sull'uncinetto salto una due tre catenelle sulla quarta vado a fare il mio primo fiore quindi due gettate chiudo 3 catenelle vado la seconda nocciolina 3 catenelle vado scusate ho preso il filo an alla mia terza nocciolina che compone il fiore e ho fatto il primo fiore salto una due tre catenelle maglia alta nella quarta nella quinta dal fiore e nella sesta filo sull'uncinetto salto una due tre maglie alte sulla quarta faccio un secondo fiore in questo modo quindi prima nocciolina 3 catenelle seconda nocciolina 3 catenelle terza nocciolina chiudiamo e abbiamo fatto il nostro secondo fiore saltiamo tre maglie una due tre dalla quarta fino all'angolo vado a lavorare tutte maglie alte ripetiamo dopo l'angolo la spalla e ci rivediamo per chiudere la lavorazione sulla parte anteriore come vedete la spalla l'ho fatta nello stesso modo come l'altra quindi ho fatto cinque maglie alte ne ho saltato tre maglie nella quarta ho fatto il fiore saltato tre maglie e ho fatto le cinque maglie alte prima di entrare nell'angolo ora facciamo insieme l'angolo e concludiamo insieme questo giro quindi maglia alta 2 catenelle di nuovo nell'angolo maglia alta andiamo a lavorare le cinque maglie fuori dall'angolo 3 4 e 5 filo sull'uncinetto saltiamo una due tre sulla quarta maglia sottostante andiamo a fare il nostro fiore 3 catenelle seconda nocciolina chiudiamo 3 catenelle terza nocciolina che compone il fiore ed ora filo sull'uncinetto contiamo 1 2 3 sulla quarta facciamo la maglia alta sulla quinta facciamo la maglia alta e sull'ultima facciamo la maglia alta abbiamo concluso così il nostro primo giro questo è quello che avremo al termine della lavorazione vedete inizia a chiudere abbastanza bene tenete presente che sul davanti abbiamo tre maglie in più del dietro quindi al di là della bordura che verrà fatta sicuramente in seguito già chiude abbastanza bene partiamo con il nostro terzo giro il terzo giro sarà il secondo della ripetizione dopodiché si ripeteranno sempre questi due giri quindi il giro fatto nel secondo quindi si ripeterà il secondo è il terzo giro fino alla chiusura dello sprone quindi secondo e terzo il primo tutto a maglie alte era solo per avviare quindi facciamo due catenelle voltiamo il nostro lavoro in questo modo e facciamo la maglia alta sulla maglia alta quindi ricordatevi sempre non si contano le due catenelle perché abbiamo fatto la maglia alta lavoriamo maglia alta su maglia alta quindi le tre maglie sottostanti ecco qui ora facciamo 3 catenelle ed andiamo a fare una maglia bassa nel primo archetto creato tra il primo e il secondo petalo del fiore quindi tra la prima e la seconda nocciolina facciamo una maglia bassa 3 catenelle tra la seconda e la terza nocciolina c'è un archetto facciamo la maglia bassa 3 catenelle andiamo sulla prima maglia utile e iniziamo a lavorare la nostra serie di maglie alte fino ad arrivare al nostro angolo arrivati all'angolo entro nell'angolo faccio maglia alta 2 catenelle maglia alta esco lavorando tutte le maglie che incontro mi raccomando tutte anche quelle degli angoli sottostanti non saltiamo né altrimenti è come se non avessimo effettuato nessun aumento cerco di andare un po veloce per insomma strizzare un po il video siamo arrivati all'ultima maglia alta 3 catenelle entro nel primo archetto e faccio una maglia bassa 3 catenelle entro nel secondo archetto faccio una maglia bassa 3 catenelle carico il filo vado a lavorare tutte le maglie sottostanti compresa quella dell'angolo mi raccomando quello è il nostro aumento quindi vado avanti così per tutto il giro in pratica dove ci sono ci fermiamo sempre sull'ultima maglia alta facciamo le 3 catenelle una maglia bassa nel primo archetto 3 catenelle una maglia bassa nel secondo archetto 3 catenelle ricominciamo a lavorare le maglie alte qui siamo sul retro ne abbiamo solo 3 fatte le 3 maglie alte di nuovo 3 catenelle primo archetto con maglia bassa 3 catenelle secondo archetto maglia bassa 3 catenelle ricominciamo fino all'angolo dove faremo maglia alta 2 catenelle maglia alta ripetiamo fino alla fine del giro sono arrivata al termine del giro vado a fare l'ultima maglia come detto vedete che io qua ho le due catenelle e la maglia io vado a lavorare sulla catenella della maglia e le due catenelle di inizio giro non le conto le ignoro tranquillamente perché la mia prima maglia è la maglia alta e non le due catenelle ora faccio due catenelle per alzarmi volto il mio lavoro e inizio quello che è il nostro quarto giro e in realtà è il primo giro di ripetizione quindi vado a ripetere il giro con i miei fiorellini allora lavoro la prima maglia alta sulla maglia alta sottostante alla base delle tre catenelle vado a fare la prima maglia alta vado a lavorare le altre due normalmente una e due ora il mio fiore lo devo andare a fare sull'archetto centrale sopra il fiore quindi carico vedete questo archetto è quello che ci porta dalle maglie alte al fiore noi andiamo questo il primo questo è il secondo e questo è il terzo noi lavoriamo proprio su quello centrale sopra il fiore quindi andiamo a fare la stessa cosa fatta prima un altro fiore prima nocciolina chiudo tre catenelle seconda nocciolina sempre in quell'archetto 3 catenelle terza nocciolina sempre in quell'archetto e ci fermiamo così vedete abbiamo fatto praticamente il fiore sopra al fiore ora andiamo a lavorare senza archetti catenelle di separazione varie andiamo a lavorare tutte le maglie alte che seguono il lavoro sarà sempre così quindi faremo sempre questi due giri di lavorazione fino ad arrivare all'altezza in cui possiamo chiudere per creare le maniche quindi nell'angolo sempre una catenella scusate una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta quindi procediamo sempre in questo modo ecco qua io sono arrivata alla chiusura della delle maniche allora io in realtà ve lo misuro con il centimetro perché ho dimenticato il l'avvolgibile sotto sono arrivata a 19 e mezzo quasi 20 come altezza dalla spalla alla chiusura delle maniche quindi uno sprone abbastanza normale tenete presente che quel centimetro mezzo centimetro centimetro lo metteremo nell'ultimo giro perché quando andiamo adesso a lavorare questo giro per chiudere la maglia noi avremo due giri in più di lavorazione in pratica perché saranno uno sul davanti e uno sul dietro che andrà a far crescere ancora un pezzettino la nostra manica o comunque la nostra altezza della dello scalfo come potete vedere qua sulla manica abbiamo la lavorazione in questo modo vedete da dentro risulta molto piatta da fuori risulta molto a rilievo le nostre noccioline potevo farle anche più a fu telle facendo la gettata in più ma con il mio filato già aveva una buona consistenza una buona resa e quindi ho deciso di farle con due gettate andiamo quindi a chiudere lo scalfo manica inizio quindi un giro lavora di lavorazione è normalissimo quindi ho fatto le due catenelle vado a fare le tre maglie alte ad inizio giro volevo farvi notare come le due catenelle rendano molto compatto il bordo si potrebbe tranquillamente anche non rifinirlo perché abbiamo proprio veramente un bordo molto ben compatto quindi facciamo le nostre tre catenelle andiamo nel primo archetto con la maglia bassa 3 catenelle andiamo nel secondo archetto con la maglia bassa 3 catenelle e ricominciamo a lavorare le nostre maglie alte fino ad arrivare all'angolo dove uniremo vado a lavorare l'ultima maglia prima dell'angolo quindi in pratica la maglia dell'angolo sottostante in questa in questo archetto quindi l'archetto dell'angolo vado a fare due maglie alte faccio allora qua dovete decidere voi io siccome sono arrivata più o meno alla larghezza che mi serve faccio pochissime catenelle giusto per avere un po di gioco per la manica quindi facciamo che ne faccio 6 sappiate che potete non farle o farne quante volete perché non c'è multiplo quindi ora ho fatto quest'angolo vado a prendere il prossimo vedete piego la mia maglia in questo modo entro nel prossimo angolo faccio 2 maglie alte nell'angolo siamo andati a togliere gli angoli ed ora vado a lavorare normalmente come fatto finora fino ad arrivare al prossimo angolo dove chiuderemo allo stesso modo comunque lo facciamo insieme arrivata alla chiusura del prossimo angolo quindi carico faccio 2 maglie alte all'interno di questo angolo prendo l'altro angolo no scusate prima devo fare 6 catenelle ricordatevi di fare lo stesso numero fatto dall'altra parte le conto 1 2 3 4 5 e 6 carico il filo entrò nell'angolo 2 maglie alte e proseguo fino a chiusura del giro a quel punto avremo semplicemente chiuso i nostri scalfi manica ecco qua abbiamo chiuso gli scalfi manica volevo farvi vedere quello che ho fatto per la mia piccolina che è un filato anche più chiaro si vede meglio vedete ecco qua l'ho fatto in due colori vedete o si vede molto di più il disegno ecco qua vedete qui ci sono tre gettate e rimane molto a rilievo ve lo faccio vedere in questo modo vede che è bello a rilievo molto molto bello a rilievo e vi faccio vedere anche il dietro che è identico a quello che abbiamo fatto noi grande ma fatto per piccina quindi vi faccio vedere anche il retro vedete sul retro c'è questo bel decoro volendo si può anche indossare con la bottonatura dietro e quindi farò diventare un maglioncino ecco io l'ho fatto in questo modo non dovrete fare altro ora che andare a ricostruire le maglie sotto agli scalfi semplice maglia alta e proseguire fino alla lunghezza della vostra lavorazione come fatto finora solo senza gli angoli quindi andremo a lavorare in giri d'andata e ritorno semplicemente senza più avere gli angoli che avevamo sullo sprone io continuo con l'allungamento e ovviamente ci vediamo per le maniche ecco qui allora mi sono accorta che il video stava diventando veramente molto lungo per quelle che sono delle cose molto basiche quindi ho semplicemente allungato vedete e ho già fatto le maniche perché non dovete fare altro che andare avanti con la lavorazione quindi vi aggancerete con la manica e mi raccomando la manica andrà fatta nuovamente in giri di andata e ritorno perché altrimenti cambierà la lavorazione ho ritenuto di non dovervi registrare la manica e le finiture perché veramente sono molto molto basiche per il polsino o adottato la maglia rilievo alternata 11 in modo da creare questo polsino che sembra quasi fatto i ferri il polsino vi lascerò il tutorial di riferimento in descrizione lo trovate anche nella maglia fucsia comunque vi lascio il link in descrizione con anche il minuto al quale troverete proprio la creazione del polsino inutile che io ve lo faccia rivedere in tutti i video quando in realtà c'è chi lo sa fare e chi non lo sa fare può andare e come riferimento a quel video la lavorazione veramente semplicissima a questo punto quando dovete togliere il disegno non vi resta che creare le maglie che c'erano quindi sopra al giro di archetti quindi non sopra il fiore ma sopra gli archetti non dovrete fare altro che lavorare due maglie nel primo archetto una maglia sulla maglia bassa una maglia nell'archetto centrale una maglia su maglia bassa e due maglie nell'archetto così da ricostruire le maglie laddove non ci sono e le ho ricostruite sia qui mentre sul bordo ho optato per una semplice maglia bassa a finire perché mi piaceva che finisse così mentre per il bordo ho fatto cinque giri di semplicissima maglia alta attaccandomi lateralmente alla mia maglia anche qua non mi sembrava il caso di registrarvelo perché veramente sono finiture basiche secondo me la cosa che vi interessa di più è appunto lo sprone e l'allungamento ma una volta fatto quello direi che il tutorial è più che comprensibile ovviamente sapete che se avete necessità di chiarimenti potrete tranquillamente contattarmi io in seguito poi ho fatto una semplice cinturina che sicuramente nelle foto di presentazione avrete visto questa cinturina non sono altro che vi dico quante ne ho fatte due quattro sei sono otto maglie alte ripetute per la lunghezza che vi necessita come cinturina quindi deciderete voi la lunghezza io comunque in descrizione vi metterò tutte le misure del mio cardigan giacchina quindi non preoccupatevi non vi lascio a voi stesse avrete tutte le misure in descrizione insieme ovviamente ai link di riferimento appunto per la lavorazione del bordo una volta fatti i due lati della del mio davanti quindi le sezioni davanti avendo fatto i cinque giri di bordo non ho fatto altro che fare il giro finale facendo il giro di tutta la maglia appunto per rifinire a maglia bassa e dare una continuità al punto vedete è veramente sono delle cose talmente basiche che veramente perdere tempo a farvele vedere non perdo tempo io perdere perdereste e voi il tempo attaccate ad un video che vi spiega cose veramente basilari vi faccio vedere anche il dietro una volta ecco qua fatto il nostro cardigan allora il dietro è molto bello costanza costanza dopo vi metto la foto qui la vedrete qui sopra invece ci ho fatto un maglioncino e ve lo farò vedere appunto in una foto che metto qui e il maglioncino di costanza ha fatto la stessa identica lavorazione l'unica cosa che ha fatto lei è non dividere quindi ha fatto ha montato le stesse maglie sul davanti e sul dietro e non ha diviso per lasciare l'apertura quindi si è fatta un semplicissimo maglioncino veramente molto grazioso quindi potrete decidere se farvi il maglioncino chiudendolo tutto oppure il cardigan io ho optato per il cardigan perché andiamo incontro ad una stagione dove i cardigan non bastano mai in quanto è molto pesante con questo filato e potrete tranquillamente sostituirlo alla giacca per uscire ho fatto anche il basco in coordinato e quello sarà un prossimo video tutorial in descrizione vi lascerò anche le misure di quello da bimba vedete ho messo dei bottoncini gioiello molto carini e ho rifinito semplicemente vedete con la manichina così com'è non ho continuato la manica in quanto i bimbi secondo me col maglioncino di lana perlomeno i miei la mia bimba all'asilo fa caldo a casa fa caldo e quindi ho ritenuto di lasciare così senza manichina molto molto bello qui ho semplicemente fatto la manica piatta i bimbi preferisco sempre fare la spalla che risulta piatta perché hanno maggior libertà di movimento invece nel nostro come vedete scende un po più obliqua ma veste benissimo anche per per noi io ritengo che siano carini entrambi vedete quasi vede molto bene la lavorazione perché su chiaro si vede molto bene ecco qui veramente molto bella io poi qui ho messo i bottoncini qua invece non ho messo i bottoncini perché utilizzerò a chiudere gli spilloni adesso me ne prendo uno che ho qua in questo momento questi spilloni che sono comodissimi e possiamo spostarli nelle varie parti del nostro cardigan quindi se lo vogliamo allacciato alto spostiamo lo spillone in alto se lo vogliamo allacciato in altra posizione spostiamo lo spillone non abbiamo il vincolo dei bottoni quindi possiamo spostare la chiusura a nostro piacimento in vita in alto o a metà quindi dare un taglio diverso alla nostra giacca o cardigan secondo me lo rende un po più versatile quindi a seconda del nostro abbigliamento possiamo farlo più classico più sportivo o come ci pare e piace quindi ho optato per questo spillone anche questo potrete trovarlo da merceria italia artisan come il filato vi lascerò ovviamente in descrizione la quantità sia in metri che il peso del filato che ho utilizzato vi lascerò in descrizione anche i punti per partire quindi del cardigan o gilet da bimba quindi vi lascio anche queste misure vi lascio tutto in descrizione io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto vi do un abbraccio forte vi do appuntamento al prossimo video tutorial che sarà appunto il basco di questo in coordinato con questo cardigan vi invito a venirmi a trovare sul gruppo facebook creando e con lusi il salotto io vi do appuntamento al prossimo tutorial vi invito andare a vedere il sito di merceria italia artisan dove troverete questi e molti altri filati veramente bellissimi un bacione grande ciao da luci alla prossima ciao